Il nostro cine inviato fa un salto a Tripoli. Alla Libia rimane sempre legato il nostro affetto e mandiamo volentieri un saluto a Tripoli. Un viso noto, un gesto di impazienza allo sbarco. Enrico de Toma, uno dei protagonisti dei falsi di Salò. La Svizzera gli aveva posto alcune restrizioni, qui per ora tiene una conferenza stampa. Aspetta di essere interrogato sul carteggio Mussolini e Churchill. Si dice di avere portato documenti sensazionali.